Ciao a tutti, ecco a voi un nuovo video per la Nellar Collection. In questo video vi farò vedere l'uscita 36esima che troverete in edicola l'8 settembre con all'interno uno smalto tortola e degli sticker a forma di cuore che appunto avete visto dall'immagine. Abbiamo fatto due tutorial, uno fotografico, l'altro fotografico e video e anche in questo caso ci sarà la collaborazione con Roslion per il tutorial numero due, per il uno scusate, per il tutorial numero due ho fatto comunque, ho utilizzato la micropittura, quindi ho utilizzato i colori acrilici più comunque i gadget dell'uscita stessa. Spero tanto che come sempre le slide dell'uscita vi piacciono, fatemi sapere cosa ne pensate e al prossimo video, un grosso bacio a tutti, ciao!